Improvvisamente a Ellis Klein l'Europa non va più bene. Il motivo? Un obiettivo scivolamento a destra Stando a quanto confermato dalla leader del Partito Democratico, i socialisti stanno chiedendo a Ursula von der Leyen di chiarire qual è la maggioranza che la sostiene La situazione si è molto complicata in questi giorni. È un dibattito che vedremo nei prossimi giorni. Bisogna chiarire in che direzione si vuole andare La strada non è quella che abbiamo visto in questi anni della corsa al riarmo, ma di una maggiore integrazione e di una vera difesa europea I governi sono stati molto gelosi delle proprie competenze.Intervenendo alla presentazione del libro La parola pace L'utopia che deve farsi realtà, al castello sforzesco di Milano, nell'ambito di Book City, Sklein lancia un allarme a dir poco insensato In Uwet, aggiunge, sta succedendo che su alcune tematiche c'è stato un obiettivo scivolamento a destra Il PPE ha votato insieme ai nazionalisti per affossare il regolamento sulla deforestazione Insomma, per la DEM siamo di fronte a un bivio fondamentale della storia, perché non ci sono scuse per nessuno Dopo quello che è accaduto con il voto americano, serve un salto di qualità sull'integrazione europea Oggi o l'Europa prende coscienza che così non può funzionare o non riusciremo ad assicurare un futuro a quegli ideali di libertà e democrazia contenuti nei trattati fondativi E ancora, non poteva mancare la parentesi sui migranti Noi contestiamo molto spesso che il governo rivendichi che non si parli più di solidarietà sull'accoglienza Ma chi ha più bisogno sono i paesi come il nostro L'Italia ha più bisogno di altri che passi il principio che chi entra in Italia entra in Europa Oggi il governo italiano ha smesso di chiedere questo, forse per non scontentare gli alleati europei a partire da Orban Si vede tutta la contraddizione di questi nazionalisti, che fanno gli interessi di chi tifa contro l'Italia Grazie 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 a tutti